La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di reato di lesioni colpose nei confronti della madre del bimbo gli appena un anno e mezzo precipitato per 5 metri dalla finestra di un appartamento di una palazzina della Caritas in via Fonte Veneziana ad Arezzo. Il bimbo di 20 mesi, secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, sarebbe riuscito ad arrampicarsi su di un termosifone, raggiungere così il davanzale dal quale avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto di sotto da un'altezza di 5 metri. Il bimbo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Meyer di Firenze, sarebbe grave ma non in pericolo di vita. La madre del piccolo, una 35enne romena, ha raccontato alla polizia che l'ha interrogata di non essersi accorta di nulla in quanto stava dormendo quando è accaduto l'incidente. All'interno dell'appartamento si trovava la donna, i suoi tre figli, un bimbo di 5 anni e due gemellini di 20 mesi. Il PM Angela Masiello ha disposto il sequestro dell'appartamento, ha indagato la madre per lesioni colpose. In precedenza il Tribunale dei Minori aveva disposto l'affido provvisorio dei tre figli.